Tribunale di Bassano vuol dire opportunità per i commercianti, vuol dire vita nel centro storico, vuol dire passaggio. Sicuramente potrebbe essere una grossa agevolazione per noi commercianti per alleviare un po' quello che è la burocrazia. Sicuramente può darne vantaggio a tutto il nostro movimento. Secondo me è molto importante anche perché fa riavviare anche molte attività nel senso che ci sarà molta più gente che viene su e giù e quindi c'è anche molta più gente che può, per l'attività è molto importante secondo me. Sappiamo benissimo che un tribunale sarebbe un indotto per tantissime cose, non per le imprese ma soprattutto per le imprese ma anche per le attività commerciali. Sappiamo benissimo quanto è legato l'imprenditoria a un tribunale, brevetti o quant'altro, non è solo la causa civile o penale ma veramente c'è una cosa molto più complessa che magari non tutti conoscono. Primo, e secondo me per l'impresa, sappiamo benissimo, è una cosa che ho detto tanti anni fa, un'impresa voleva investire quello nel territorio ma sapendo che il tribunale andava via ha spostato la loro attività da un'altra parte. Questo è un piccolo esempio banale però per far capire l'importanza di un tribunale nella zona, senza contare poi per noi piccoli commercianti che abbiamo con l'attività qua nel centro, cosa potrebbe portare? Vuol dire portare gente, professionisti, gente che gira e potrebbe essere per i negozi, potrebbe essere una cosa grande per tutti.